Susanna Mazzucchelli, grazie. Buongiorno a tutti, io volevo dire che concordo con il Presidente quando dice che noi abbiamo una linea politica e questo lo sappiamo, ma secondo me abbiamo anche una strategia che è quella del lavoro e della coerenza e della possibilità di camminare a tessa alta con i contenuti che sappiamo portare e rispettare, perché le cose che diciamo noi le dicono tutti, ma noi le facciamo anche e credo che sia questa la cosa differente rispetto agli altri e questo che ci distingue non è tanto il fatto che siamo più bravi o che ce la tiriamo o che pensiamo di più, noi facciamo quello che diciamo e una cosa invece che secondo me dovremmo fare di più è lavorare sul locale, io sono segretario di un'associazione che si chiama Radicali Genova, è un'associazione appena nata ma lavoriamo, facciamo tante cose e con tanta fatica, ma in un anno Bruno Mellano diceva che si corre negli anni radicali e io devo dire di sì perché questo è il mio primo anno, primo anno come segretario di un'associazione, primo anno nel Comitato Nazionale di Radicali Italiani e non mi sono fermata un secondo, delle mille cose che volevamo fare ce ne sono ancora altre mille che dobbiamo cominciare, ma ne abbiamo fatte molte e colgo questa occasione per ringraziare i parlamentari, questa è un'altra caratteristica radicale, dov'è il partito in cui tu chiedi aiuto alla tua dirigenza e la dirigenza arriva immediatamente? Io voglio ringraziarli tutti, Elisabetta Zamparutti è venuta per parlare di ecologia sul tema dei container, per quanto riguarda il container radioattivo di Voltri, voglio ringraziare Donatella Poretti che mi ha dato una grossissima opportunità che è quella di partecipare a un progetto di un libro che è uscito pubblicato dalla Regione Lazio, un progetto relativo alle case famiglie che cercheremo di riprodurre a Genova. Voglio ringraziare Rita Bernardini e Marco Perduca che sono venuti a visitare i carceri Liguri, Rita è venuta a gennaio, abbiamo fatto il tour di tutte e sette le carceri Liguri e poi Marco è venuto a luglio. Queste visite ci hanno permesso di constatare una situazione disastrata, ma non è questa la novità? La novità è quella che poi sono seguite in interrogazioni parlamentari ed è seguito da parte nostra la richiesta di accesso agli atti per vedere le relazioni di agibilità della ASL. Allora noi le abbiamo richieste a luglio queste relazioni e la nostra richiesta è caduta nel silenzio, nonostante il 26 di luglio siamo riusciti a organizzare una bellissima fiaccolata in cui abbiamo portato in piazza più di 250 persone tra cui il sindaco, ma non gli è bastato nel senso che non ci hanno risposto. Dopodiché abbiamo deciso di chiedere ancora e finalmente ci sono arrivate le relazioni che ci sono stranamente ma sono ridicole, nel senso che non sono neanche in grado di dirci quanti detenuti ci sono nei carceri di Ponte Decimo e di Marassi che sono quelle che noi abbiamo richiesto. Queste ispezioni sono fatte in questo modo, gli ispettori vanno, dicono buongiorno siamo qua, cosa ci fate vedere oggi? Prego guardate questa cella oppure guardate questo piano, gli altri sono uguali, ah va bene grazie. L'ispezione è questa. Noi quando andiamo a fare le visite ispettive presentiamo un questionario molto semplice nel quale quantomeno ci dicono quanti detenuti ci sono, quanti tossicodipendenti, quanti stranieri, quanti malati. Spesso non riusciamo ad avere neanche quelle di risposta, nel senso che non sanno che tipo di malattie ci sono e quanto queste siano o meno compatibili con il regime carcerario. Comunque tutto questo ci ha portato a una grandissima vittoria che è quella di intanto avere le relazioni ma poi ottenere la collaborazione di due consiglieri regionali che sono il consigliere Schalf e il consigliere Pellerano che mercoledì prossimo presenteranno in regione un ordine del giorno per modificare la modalità di visita ispettiva in modo che sia realmente una visita. Questo tipo di... grazie. La nostra proposta, quindi il nostro ordine del giorno che verrà portato prende spunto da un ordine del giorno della regione Lombardia del 2005 in cui c'è una spiegazione molto dettagliata di come dovrebbe essere fatta una visita ispettiva quindi cella per cella, detenuto per detenuto e verificando tutte le condizioni necessarie a un vivere civile. Ho visto che anche a Milano Lucio Bertè e Marco Capato lo stanno facendo con il consiglio comunale, quindi abbiamo avuto la stessa idea senza saperlo ma cerchiamo di replicarla, questo è un invito che faccio alle altre città dove ci sono carceri perché è importante. Presentare questo tipo di richieste permette anche di aprire un'interlocuzione per cui poi ci si avvicina a diverse forze politiche con le quali non ci si deve per forza alleale ma si possono fare dei pezzettini di strada insieme. Oltre al discorso carceri noi abbiamo ottenuto un'altra importante vittoria che è quella di avere il referendum sull'acqua sola, l'acqua sola è un parco di Genova che stanno cementificando, l'idea è quella e sono anni che c'è una controversia per fermare la costruzione di questo parcheggio detta in soldoni insomma. Finalmente grazie anche a Mario Staderini che ci ha aiutato a stendere il quesito ce l'hanno accettato per cui scenderemo in piazza cercando di raccogliere le firme e facendone una battaglia che va al di là del parco dell'acqua sola ma che deve spiegare ai cittadini liguri e genovesi che nonostante la pubblica amministrazione cerchi di impedire in ogni modo alle persone di dire la propria ci sono degli strumenti che noi dobbiamo pretendere di poter utilizzare. È la prima volta che si fa un referendum a Genova di questo tipo ed è noi cercheremo di usare questo strumento per chiedere ai cittadini di lottare per il proprio diritto ad esprimere le proprie opinioni. Adesso io avevo una scaletta ma non riesco a seguirla e un'altra cosa importante su cui ci siamo impegnati sono i contributi silenti. Siamo riusciti su questo a aggregare anche un po' di persone nuove che arrivano da diverse ideologie, da diverse anche scuole politiche se vogliamo ma quello che i radicali riescono a fare trasformando le parole che dicono in fatti è proprio quello di aggregare anche a volte identità molto diverse perché se si parte da un concetto di lealtà e di dignità di quello che si dice allora si può discutere con tutti senza perdersi però. Questo è quello che secondo me è importante. Per tornare al discorso PD o non PD, non è il PD il problema, cioè il problema ce l'hanno loro perché non ci sono i contenuti. Noi abbiamo un'idea, la portiamo avanti e non dobbiamo scendere a nessun compromesso. Siamo qui, se vogliono parlarci noi ci siamo. Grazie.